Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi Al GF VIP per far scoppiare il caos è bastato fare il nome di una famosa conduttrice che ha mandato su tutte le furie la concorrente di punta di Alfonso Signorini. Nella casa del GF VIP il bello avviene sempre quando i concorrenti non sono in collegamento con Alfonso Signorini in quanto non avvertendo la presenza delle telecamere, nonostante siano osservati 24 ore su 24, si sentono liberi di esprimersi come meglio credono. Basti pensare che nelle scorse ore, è bastato il semplice nome di una conduttrice per scatenare il panico nella casa e per mandare su tutte le furie una delle assolute protagoniste di questa settima edizione. Di chi stiamo parlando? Di Pamela Prati ovviamente, che ha tutta l'intenzione di lasciarsi il passato alle spalle e di concentrarsi sul suo futuro, facendo scoprire al pubblico del piccolo schermo degli italiani un lato diverso della sua personalità ma qualche volta questo torna a galla e l'istinto prende il sopravvento. Il nome della famosa conduttrice manda scatena il caos al GF VIP e scatta il Pamela Prati Show Pamela Prati stava parlando a tu per tu con Patrizia Rossetti al Grande Fratello VIP, dove è arrivata la confessione in attesa che scagiona Belen Rodriguez, e lei le stava per fare un esempio di come si approccia quando qualcuno non le piace e fin qui nulla di male. Nel farle l'esempio però la Rossetti ha utilizzato una persona reale, una nota conduttrice con cui la showgirl non è in ottimi rapporti e per questo motivo la sua reazione è arrivata in men che non si dica. Ovviamente stiamo parlando di Barbara D'Urso e non appena la Prati ha sentito il suo nome è subito scattata rifiutandosi di voler parlare di lei. Che tra le due non scorra buon sangue non è di certo un mistero, considerato che le loro divergenze si sono spostate dagli studi televisivi al tribunale. Il tutto è iniziato con il caso Marc Altagirone. Personaggio che è stato ampiamente trattato dalla bella conduttrice partenopea durante il corso delle sue trasmissioni e che ha creato una divisione tra le due che difficilmente riuscirà a sanarsi. Intanto però il pubblico della rete non ha potuto fare a meno di sorridere di fronte alla reazione di Pamela Prati, rendendola virale in men che non si dica. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.